Green Pass è il lavoro. L'obbligo di mostrare il certificato verde si applicherà dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, data in cui salvo proroghe terminerà lo stato di emergenza sanitaria. In questi giorni i lavoratori e datori di lavoro sono in fibrillazione per avere chiarimenti sul decreto legge che regola appunto l'accesso nei luoghi di lavoro e sempre più spesso ci si rivolge ai sindacati. Per cercare di fissare alcuni punti importanti abbiamo sentito Elena Zanola della Filcams CGL Chieti. Tanto possiamo dire che questa disposizione, questa norma ha una portata generale perché viene applicata sia a chi è dipendente ma anche a chi è un lavoratore autonomo? Sì, la norma è applicata a tutti, diciamo in tutti i luoghi di lavoro, quindi sia pubblici che privati, chiunque entra in un luogo di lavoro per appunto svolgere la sua attività deve rispettare la legge appena emanata sul Green Pass. Gli obblighi del datore di lavoro quali sono? Ma diciamo che la legge ha demandato al datore di lavoro l'organizzazione e la verifica del possesso del Green Pass da parte dei propri dipendenti. Sarà un'applicazione a effettuare il controllo, la cosiddetta applicazione C19? Sì, ovviamente tutti i datori di lavoro si stanno attrezzando evidentemente per essere a posto con l'applicazione della legge. È chiaro che noi ad oggi, diciamo il ritorno che ho almeno personalmente nella categoria che io seguo, che ancora pochi datori di lavoro hanno ufficialmente comunicato le modalità organizzative ai propri dipendenti, perché evidentemente questa è una norma che nella sua applicazione evidentemente crea degli stress organizzativi e le aziende ancora stanno valutando bene come gestirla. Credo che il garante della privacy, leggevo proprio in questi giorni, che è già intervenuto in alcuni casi. E chiarendo questo, cioè che è obbligo da parte del datore di lavoro di verificare che la certificazione Green Pass sia valida, ma non è assolutamente possibile per il datore di lavoro controllare a che titolo la certificazione Green Pass è stata ottenuta, cioè se da guarigione, da vaccino, da tampone, e non è neanche autorizzato né a fare indagini preventive e ne ha, come dire, a controllare la scadenza. Quindi diciamo che semplicemente deve verificare con un flag verde che quel Green Pass è in quel momento valido. La Zanola infine si sofferma sulle conseguenze del mancato possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Non c'è assolutamente nessun problema per i lavoratori che decidono, per una scelta personale, di non solo di non vaccinarsi, ma di non sottoporsi nemmeno al tampone, lo dichiarano in momento di ingresso in aziende e quindi vengono sospesi dal lavoro e dalla retribuzione, però non c'è pericolo di altro, cioè si è semplicemente sospesi dal lavoro. Non è possibile in alcun modo, lo dice esplicitamente la legge, licenziare i lavoratori e non è neanche possibile fargli una contestazione disciplinare. Sono semplicemente sospesi dal lavoro fino a che o non entrano in possesso di un Green Pass o comunque fino al 31 dicembre.